Nello scorso video abbiamo parlato di moto rettilineo uniformemente accelerato abbiamo anche visto un esempio che ci permetteva di capire come si utilizzano quelle formule che abbiamo visto in questa lezione ci occuperemo di due esempi molto tipici all'interno della fisica e stiamo parlando della famosa caduta libera questo è un argomento molto importante, è considerato come esempio didattico, come esercizio però è molto importante anche perché riuscirete per la prima volta a capire cosa significa impostare un sistema di riferimento quando si svolge un qualsiasi esercizio di fisica e soprattutto bisogna capire come interpretare il risultato ottenuto in base alla scelta che avete fatto come sistema di riferimento allora che cos'è la caduta libera? beh, la caduta libera non è nient'altro che la caduta di un corpo da una certa altezza si può dimostrare, ovviamente questo lo vedremo poi nella dinamica che è la caduta libera di un corpo è un moto rettilineo uniformemente accelerato è rettilineo perché la traiettoria è verticale cioè perpendicolare al suolo, quindi una retta è uniformemente accelerato perché il corpo cade con accelerazione costante con modulo pari a G questa G è detta, è molto importante in fisica, è detta anche accelerazione di gravità e vale circa 9,81 metri al secondo al quadrato quindi abbiamo questa G che è pari a 9,81 metri al secondo al quadrato ed è l'accelerazione di gravità, cioè quella alla quale sono soggette tutte le persone che cadono ad una certa altezza dico circa perché dipende dall'altezza a cui ci troviamo questo è circa il valore a livello del mare se andiamo molto in alto il valore diventa più piccolo perché diventa più piccolo? perché semplicemente la trazione che ha la terra verso di noi diminuisce nel momento in cui andiamo sempre più in alto ovviamente questa cosa ancora non la capite bene però la vedremo poi in dinamica allora quindi qual è la situazione? abbiamo un corpo che sta, diciamo chiamiamolo questo corpo A sta ad una certa altezza ed è soggetto ad un'accelerazione di gravità che è sempre diretta verso il basso quindi ovviamente questa accelerazione di gravità fa sì che il corpo effetti un moto rettilineo uniformemente accelerato ora state bene attenti perché allora il suolo ovviamente lo abbiamo qui ad esempio e la distanza che c'è tra il suolo e il punto in cui si trova il corpo all'inizio è pari ad H uguale a 5 metri ad esempio quindi questo è H ed è semplicemente l'altezza alla quale si trova il corpo rispetto al suolo ora state bene attenti qui bisogna fare una scelta che è molto importante perché in base a questa scelta voi dovete interpretare i vostri risultati cioè dovete fissare il sistema di riferimento il sistema di riferimento quando viene fissato bisogna effettuare due scelte uno bisogna capire, bisogna orientare il nostro sistema di riferimento quindi va orientato verso l'alto, verso il basso, a destra o a sinistra inoltre, anzi in generale può avere una qualsiasi orientazione però in genere si prendono quello dell'asse Y e quello dell'asse X però si possono scegliere anche altri riferimenti inoltre una volta scelto questo bisogna anche scegliere l'origine del nostro sistema di riferimento cioè bisogna capire dov'è il punto 0 in questo esercizio io scelgo l'asse Y orientato verso l'alto quindi questo è l'asse Y e come punto di origine io prendo il suolo quindi il mio sistema di riferimento è così e questo è il punto di origine ovviamente ognuno può fare la scelta che vuole ovviamente qualcuno potrebbe prendere il sistema di riferimento orientato verso il basso e con l'origine ad esempio qui l'origine potete prenderla in qualsiasi punto ovviamente vi conviene fare la scelta che vi semplifica di più i calcoli perché ovviamente le formule che andremo a utilizzare vengono adattate in base al sistema di riferimento che avete preso la domanda è se ci sono due persone che affrontano lo stesso esercizio e scelgono due sistemi di riferimento chi ha ragione? Ovviamente entrambi entrambi avranno una soluzione corretta semplicemente va interpretato in basso al sistema di riferimento che avete scelto ora cerchiamo di ragionare in basso al sistema di riferimento che ho preso cerchiamo di ragionare su questa sulla X di T sulla V di T e così via se il corpo si trova ad un'altezza H all'inizio e poi cerca di arrivare alla posizione 0 perché il sistema di riferimento io l'ho preso in modo tale che il suolo sia 0 allora cosa succede? che la H tenta a diminuire cioè la posizione del corpo passa da 5 a 0 quindi che significa? che in questo caso per il sistema di riferimento che ho preso io la X di T è una funzione decrescente ma se è una funzione decrescente significa che la velocità diventa sempre più negativa perché ovviamente la velocità dovrà diminuire perché ovviamente se la derivata della posizione è decrescente cioè se la funzione della derivata è decrescente allora la velocità dovrà essere una funzione strettamente negativa per cui anche la G è negativa tutto sempre derivante dal fatto che l'asse Y è stato preso verso l'alto in generale potete anche ragionare in questo modo l'asse Y è contrario rispetto al verso della vostra accelerazione quindi hanno verso di scorte significa che l'accelerazione di gravità è negativa ma se è negativa la velocità deve essere una funzione decrescente decrescente se dai calcoli non vi viene una funzione negativa della velocità allora sicuramente avete sbagliato perché la velocità deve venire per forza negativa questo perché la X di T è una funzione decrescente ok adesso possiamo passare ai nostri calcoli che cosa ci chiede l'esercizio? ci chiede il tempo di caduta libera molto famoso e la velocità di caduta libera v al tempo T1 ora cosa significa il tempo di caduta libera e cosa significa velocità di caduta libera? beh ci interessa il tempo che impiega il corpo ad arrivare al suolo e ci interessa con quale velocità arriva al suolo ovviamente qualcuno potrebbe obiettare perché se il corpo arriva al suolo significa che si è fermato quindi qualcuno potrebbe dire che la velocità al suolo è 0 in realtà no perché a noi ci interessa la velocità un istante prima dell'urto con il suolo ovviamente perché è chiaro che nel momento in cui io la vado a misurare quando sta al suolo ovviamente la velocità è 0 a noi ci interessa un attimo prima ora cosa dobbiamo fare? visto che siamo nel moto rettilineo di formento accelerato dobbiamo utilizzare le due equazioni quindi x di t a che cosa è uguale? è uguale a x con 0 più v con 0 t più un mezzo a t al quadrato e poi la v di t è uguale banalmente alla derivata di questa funzione quindi v con 0 più a per t ora cosa dobbiamo fare? dobbiamo adattare questa formula, queste due formule al nostro sistema di riferimento quindi intanto la ad t l'accelerazione uguale a meno g questa volta il segno meno siete costretti tra virgolette a inserirlo perché voi sapete a prescindere che l'accelerazione è negativa quindi qui dovete mettere un bel meno g altrimenti poi vi sballa tutto poi la x con 0 a che cosa è uguale? qualcuno potrebbe dire uguale a 0 ovviamente no perché? perché la x con 0 rappresenta la posizione iniziale del corpo ma la posizione iniziale rispetto a che cosa? rispetto al sistema di riferimento che ho preso io l'origine io l'ho presa al suolo quindi significa che la sua posizione iniziale è qui ma rispetto al suolo è pari ad h quindi significa che x con 0 è pari ad h la v con 0 a che cosa è uguale? beh la v con 0 è pari a 0 non ve l'ho detto ma il corpo viene lasciato libero di cadere questo significa che la sua velocità iniziale è 0 quindi v con 0 è 0 t con 0 ovviamente è 0 perché l'esercizio non fa nessun riferimento all'istante iniziale ora cosa dobbiamo fare? dobbiamo trovare l'istante di tempo il tempo di caduta libera allora ovviamente il tempo di caduta libera la velocità di caduta libera sono delle formule che già conoscete probabilmente perché l'avete viste da qualche parte però io vi consiglio sempre di ricavarle o comunque se l'esercizio è abbastanza lungo potete anche usarle direttamente è utile in effetti conoscere il tempo di caduta libera la velocità di caduta libera a memoria perché potrebbero servire quelle formule ok ora che cosa succede al tempo di caduta libera? quando il corpo arriva al suolo che cosa succede? succede che la sua posizione diventa 0 perché ovviamente se passa da H a 0 la sua posizione finale sarà 0 quindi esiste un tempo T con 1 che è il tempo di caduta libera tale che cosa succede in questo tempo? in questo tanto tempo la sua posizione quindi la X in realtà io l'ho chiamata X anche se il sistema di riferimento l'ho chiamato Y quindi chiamiamo il sistema di riferimento X ovviamente è un nome che gli do io la X al tempo T con 1 è pari a 0 quindi adattiamo questa condizione qui a questa formula quindi X al tempo T con 1 uguale a 0 che è uguale a che cosa? X con 0 che è pari ad H V con 0 che è 0 quindi non c'è meno un mezzo G T con 1 al quadrato ora questa è un'equazione di secondo grado dove manca il termine con la T quindi si risolve facilmente come si risolve? allora semplicemente basta portare H dall'altra parte quindi abbiamo meno un mezzo G T con 1 al quadrato uguale a meno H ovviamente qui la fisica è finita perché qui sono dei passaggi matematici sono dei passaggi algebrici ora moltifichiamo tutto per meno 1 moltifichiamo tutto per 2 e dividiamo per G quindi che cosa abbiamo? abbiamo T con 1 al quadrato che è uguale a 2H diviso G ora per trovare la nostra T con 1 cioè il tempo di caduta libera dobbiamo applicare la radice quadrata quindi T con 1 è uguale a più o meno radice quadrata di 2H su G state bene attenti a questo passaggio ovviamente quando io vado ad applicare la radice quadrata quindi quando risolvo un'equazione di secondo grado devo mettere più o meno questa cosa è dovuta al fatto che se applico la radice quadrata esistono due valori che soddisfano quella condizione quindi devo mettere il segno meno perché al quadrato fa più e poi il segno più però in questo caso il segno meno non va bene perché? perché il tempo non può essere negativo un tempo minore di 0 fa riferimento ad un qualcosa che sta prima dell'inizio del moto e quindi questa cosa non ha senso quindi cosa significa? significa che il risultato in realtà è radice quadrata di 2H su G quindi va preso soltanto il segno più questa formula radice di 2H su G sicuramente la conoscete è una formula abbastanza famosa quindi questa imparatela questo è il tempo di caduta libera ok ve la metto qui sopra T è uguale a radice quadrata di 2H su G poi vi vado ad inserire la velocità di caduta libera ora sostituiamo i valori H è 5 abbiamo 2 per 5 che fa 20 20 no 10 scusate poi la G in genere è vero che è pari a 9,81 però in molti esercizi per una questione di facilità di calcoli la G in molti esercizi si prende pari a 10 quindi 10 metri al secondo a quadrata in questo caso lo prendiamo pari a 10 e quindi abbiamo 2 per 5 che fa 10 diviso 10 che fa 1 radice quadrata di 1 fa 1 un secondo quindi il corpo impiega un secondo ad arrivare al suolo ora dobbiamo calcolare la velocità di caduta libera per trovare la velocità al suolo dobbiamo utilizzare questa formula ma la velocità al suolo a che cosa corrisponde? beh è la velocità nell'istante in cui il corpo arriva al suolo quindi è la velocità nell'istante di caduta libera quindi V di T con 1 coincide proprio con la velocità di caduta libera questa che cosa è uguale? è uguale a V con 0 che è 0 meno G per T perché ovviamente qui dobbiamo scrivere scriviamo direttamente scriviamo tutta la formula allora qui dovremmo scrivere V con 0 meno G per T perché a posto di A dobbiamo mettere meno G V con 0 è 0 e quindi abbiamo meno G per T ma qual è T? T con 1 ovviamente T con 1 è questo quindi andiamo a sostituire radice di 2H diviso G perché ho sostituito? perché conviene in quanto ricaveremo una formula molto importante ora questo G lo vado ad inserire all'interno della radice state ben attenti perché il meno va lasciato fuori quindi meno radice quando portiamo un qualcosa all'interno della radice bisogna elevarlo all'indice l'indice è 2 quindi fa G al quadrato quindi 2H G al quadrato diviso G G il quadrato si semplifica con G e quindi abbiamo meno radice quadrata di 2H su 2H per G questa è una formula molto importante la velocità di cauta libera coincide con radice quadrata di 2H per G quindi che significa? che se voi avete un corpo che cade ad una certa altezza potete applicare direttamente queste due formule il tempo di cauta libera e la velocità di cauta libera se vi confondete con le due formule basta calcolare basta farvi il conto con le unità di misura per capire qual è la velocità e qual è il tempo qui dobbiamo semplicemente passare alla sostituzione e quindi che cosa ricaviamo? meno allora abbiamo radice quadrata di 2 per G quindi 2 per 10 per H che è 5 questo fa 2 per 5 è 10 per 10 fa 100 radice quadrata di 100 fa 10 quindi abbiamo meno 10 metri al secondo ed ecco che magicamente la velocità ci è venuto un valore negativo ma è una cosa abbastanza scontata perché ovviamente la posizione è una funzione decrescente quindi deve venire negativo in base, attenzione, al sistema di riferimento che abbiamo preso se prendiamo un sistema di riferimento diverso quindi con il verso in basso allora le cose cambiano ovviamente entrambe le soluzioni sono corrette ovviamente se avete i dubbi delle perplessità o degli esercizi a proporre sulla cinematica o comunque sulla cauta libra potete scriverli sotto nei commenti oppure potete inviarmi un'email che troverete nelle informazioni del canale con questo video abbiamo terminato come al solito se il video è piaciuto metti un mi piace commenta, condividi e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video